Pagliati dal fondo di Cristo, il sabato nuovo si apre, E' chiusa la porta di morte, qui luce esplode in semolcro, Il sole divino rifulte, si erge lo sposo sultano, Col suo vestimento ruziale. Pagliati dal fondo di Cristo, il sole divino rifulte, si erge lo sposo sultano, Il sole divino rifulte, si erge lo sposo sultano, Il sole divino rifulte, si erge lo sposo sultano, Il sole divino rifulte, si erge lo sposo sultano, Il sole divino rifulte, si erge lo sposo sultano, Il sole divino rifulte, si erge lo sposo sultano, Il sole divino rifulte, si erge lo sposo sultano, Il sole divino rifulte, si erge lo sposo sultano, Il sole divino rifulte, si erge lo sposo sultano, Il sole divino rifulte, si erge lo sposo sultano, Il Signore ci rinnovi interiormente per essere sempre fedeli allo Spirito Santo che ci è stato dato in dol. Signore Dio Onnipotente, ascolta con moldà le preghiere del tuo popolo. Memori dell'opera mirabile della nostra creazione e dell'opera ancora più mirabile della nostra salvezza, ti preghiamo di benedire quest'acqua. Tu l'hai creata perché donasse fecondità alla terra e offrisse sollievo e freschezza ai nostri corpi. Di questo tono della creazione hai fatto un segno della tua misericordia. Attraverso l'acqua del Mar Rosso hai liberato il tuo popolo dalla schiavitù e nel deserto hai placato la sua sette con acqua dalla roccia. Con l'immagine dell'acqua viva i profetti hanno preannunciato la nuova allianza che tu intendevi offrire agli uomini. Infine, con l'acqua santificata da Cristo nel Giordano, hai rinnovato la nostra umanità peccatrice nella vacra vattessimale. Raviva in noi, o Signore, nel segno di quest'acqua benedetta, il ricordo del nostro battessimo. E donaci di essere uniti nella gioia ai nostri fratelli che sono stati battessati nella Pasqua di Cristo, Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Egli vive e regna nei secoli. Egli vive e regna nei secoli. Salve, 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 salve. Salve, salve, salve. Salve, 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 salve. Salve, 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 salve. Salve, 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 salve. Salve, salve, salve. Salve, salve, salve. Salve, salve, salve. Salve, 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 salve. 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 Salve, salve. Difondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo e rinnova anche oggi nel cuore dei credenti i prodigi che nella tua bontà hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono tutti del Spirito Santo e iniziarono a parlare in altre lingue, secondo il Spirito gli concedì manifestarsi. Residivano quindi, in Jerusalim, judiei devoti venivano da tutti i popoli che c'è sotto il cielo. Al oire questo ruolo, la multitudine riuscirono e stavano disconcertati, perché tutti i oltre a parlare in sua lingua. Stavano tutti stupefatti e admirati, dicendo, non sono galilei tutti questi che stanno parlando, quindi? Come è che tutti tutti noi oltre a parlare in nostra lingua nativa? Entre noi ci sono partos, medos, elamitas e habitanti di Mesopotamia, di Judea e Cappadocia, del Ponto e Asia, di Frigia e Panfilia, di Egitto e della zona di Libia che limita con Sirene. Ciudadano romano, forasteri, tanto judiei come proseliti, e anche i cretensi e arabi, e tutti tutti i oltre a parlare della grandezza di Dio in nostra lingua. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Benedici il Signore, l'anima mia, sei tanto grande, Signore mio Dio. Quante sono le tue opere, Signore, le hai fatte tutte con saggezza. la terra è piena delle tue creature. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Togli loro il respiro, muoiono, e ritornano nella loro polvere. Mandi il tuo Spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Sia per sempre la gloria del Signore, gioisca il Signore delle sue opere. A lui sia gradito il mio canto, io gioirò nel Signore. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. A reading from the letter of St. Paul to the Galatians. If you are guided by the Spirit, you will be in no danger of yielding to self-indulgence, since self-indulgence is the opposite of the Spirit. The Spirit is totally against such a thing, and it is precisely because the two are so opposed that you do not always carry out your good intentions. If you are led by the Spirit, no law can touch you. When self-indulgence is at work, the results are obvious. fornication, gross indecency and sexual irresponsibility, idolatry and sorcery, feuds and wrangling, jealousy, bad temper and quarrels, disagreements, factions, factions, envy, drunkenness, orgies and similar things. I warn you now, as I warned you before. Those who behave like this will not inherit the kingdom of God. What the Spirit brings is very different. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, trustfulness, gentleness and self-control. There can be no law against things like that, of course. You cannot belong to Christ Jesus unless you crucify all self-indulgent passions and desires. Since the Spirit is our life, let us be directed by the Spirit. Let us pray for the Spirit. Amen. 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 Vieni Pater, Patero, venite a dormire, venite a dormire, venite a dormire, venite a dormire. Vieni Pater, Patero, venite a dormire, venite a dormire, venite a dormire. Vieni Pater, Patero, venite a dormire, venite a dormire, venite a dormire. Vieni Pater, Patero, venite a dormire, venite a dormire, venite a dormire, venite a dormire. Grazie a tutti. 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 Paraclito. Paraclito in sostanza vuol dire due cose. Consolatore e avvocato. Il Paraclito è il consolatore. Grazie a tutti. 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 come ospite dolce dell'anima. È la tenerezza stessa di Dio che non ci lascia soli, perché stare con chi è solo è già consolare. Sorella, fratello, se avete vuio nella tua solitudine, se porti dentro un macigno che soffoca la speranza, se hai nel cuore una ferita che brucia, se non trovi la via di uscita, apriti allo Spirito. Egli scriveva a San Bonaventura, dove c'è maggiore tribolazione porta maggiore consolazione, non come fa il mondo che nella prosperità consola e adula, ma nell'adversità deride e condanna. Così fa il mondo, così fa soprattutto lo Spirito nemico, il diavolo. Prima ci rusinga e ci fa sentire invincibile. Le rusinghe del diavolo, che fanno crescere la vanità, no? Poi ci butta a terra e ci fa sentire sbagliati. Gioca con noi. Fa di tutto per buttarci giù, mentre lo Spirito del Risorto vuole risollevarci. Guardiamo gli Apostoli. Erano soli, quella mattina. Erano soli, smarritti, stavano a porte chiuse della paura. Vivevano nel timore e davanti agli occhi avevano tutte le loro fragilità, i loro fallimenti, i loro peccati. Avevano rinnegato Gesù Cristo tutti. Gli anni passati con Gesù non li avevano cambiati. Continuavano a essere gli stessi. Poi ricevano lo Spirito e tutto cambia. I problemi e i defetti rimangono gli stessi. Eppure non li temono più perché non temono nemmeno chi vuol fare loro del male. Si sentono consolati dentro e vogliono riversare fuori la consolazione di Dio. Prima impauriti, ora hanno paura solo di non testimoniare l'amore ricevuto. Gesù ne aveva profetizzato. Lo Spirito darà testimonianza di me. Anche voi date testimonianza. E diamo un passo avanti. Pure noi siamo chiamati a testimoniare nello Spirito Santo, a diventare paracliti, cioè consolatori. Sì, lo Spirito ci chiede di dare il corpo alla sua consolazione. E come fa? Come possiamo fare questo? Non facendo grandi discorsi, ma facendosi prossimi. Non con parole di circostanza, ma con la preghiera della vicinanza. Ricordiamo che la vicinanza, la compassione e la tenerezza è lo stile di Dio, sempre. Il paraclito dice alla Chiesa che oggi è il tempo della consolazione, è il tempo del lieto annuncio del Vangelo, più che della lotta al Paganessimo. È il tempo per portare la gioia del risorto, non per lamentarci del dramma della secolarizzazione. È il tempo per riversare amore sul mondo, senza sposare la mondanità. È il tempo in cui testimoniare la misericordia, più che incolcare regole e norme. È il tempo del paraclito, il tempo della libertà del cuore, nel paraclito. Il paraclito, poi, è l'avvocato. Nel contesto storico di Gesù, l'avvocato non svolgeva le sue funzioni come oggi. Anziché parlare al posto dell'imputato, gli stava di solito accanto e gli suggeriva all'orecchio gli argomenti per difendersi. Così fa il paraclito, lo spirito della verità, che non si sostituisce a noi, ma ci difende dalla falsità del male, ispirandoci pensieri e sentimenti. Lo fa con delicatezza, senza forzarci. Si propone, ma non si impone. Lo spirito della falsità, il maligno, fa il contrario. Cerca di costringersi. Vuole fare credere che siamo sempre obbligati a accedere alle suggestioni cattive e alle pulsioni dei vizi. Proviamo allora ad accogliere tre suggerimenti tipici del paraclito, del nostro avvocato. Sono tre antidoti, basilari, contro altre tante tentazioni, oggi tanto diffuse. Il primo consiglio dello Spirito Santo è Abita il presente. Il presente, non il passato o il futuro. Il paraclito afferma il primato del oggi, contro la tentazione di farci paralizzare delle amarezze e dalle nostalgie del passato, oppure di concentrarci sull'incertezza del domani e lasciarsi ossessionare dai temori per l'avvenire. Lo Spirito ci ricorda la grazia del presente. Non c'è tempo migliore per noi. Adesso lì, dove siamo, è il momento unico, irripetibile, per fare del bene, per fare della vita un dono. Abitiamo il presente. Poi, secondo il paraclito consiglia, cerca l'insieme. L'insieme, non la parte. Lo Spirito non plasma degli individui chiusi, ma ci fonda, come Chiesa, nella multiforme varietà dei carismi, in una unità che non è mai uniformità. Il paraclito afferma il primato dell'insieme. Nell'insieme, nella comunità, lo Spirito predilige agire e portare novità. Guardiamo agli Apostoli. Erano molto diversi tra loro. Ad esempio, c'era Matteo, pubblicano, che aveva collaborato con i Romani, e Simone, detto Selota, che si opponeva a loro. C'erano idee politiche opposte, visione del mondo differenti. Ma quando ricevono lo Spirito, imparano a non dare il primato ai loro punti di vista umani, ma all'insieme di Dio. Oggi, se ascoltiamo lo Spirito, non ci concentreremo sui conservatori e progressisti, tradizionalisti e innovatori, destra e sinistra. No. Se i criteri sono questi, vuol dire che nella Chiesa si dimentica lo Spirito. Il paraclito spinge all'unità, alla concordia, all'armonia delle diversità. Ci fa vedere parti dello stesso corpo, fratelli e sorelle tra noi. Cerchiamoli insieme. E il nemico vuole che la diversità si trasformi in opposizione. E per questo le fa divenire ideologie. Dire no alle ideologie, sia all'insieme. Infine, il terzo grande consiglio. Mette Dio prima del tuo io. È il passo decisivo della vita spirituale, che non è una collezione di meriti e di opere nostre, ma umile accoglienza di Dio. Il paraclito afferma il primato della grazia. Solo se ci svuotiamo di noi stessi, lasciamo spazio al Signore. Solo se ci affidiamo a Lui, ritroviamo noi stessi. Solo da poveri in spirito diventiamo ricchi di Spirito Santo. Vale anche per la Chiesa. Non salviamo nessuno, e nemmeno noi stessi, con le nostre forze. Se in primo luogo sono i nostri progetti, le nostre strutture, i nostri piani di riforma, scadremo nel funzionalismo, nell'efficientismo, nel orizzontalismo, e non porteremo frutto. Gli ismi sono ideologie che individuano, che separano. La Chiesa non è un'organizzazione umana. È umana, ma non è solo un'organizzazione umana. La Chiesa è il Tempio dello Spirito Santo. Gesù ha portato il fuoco dello Spirito sulla terra e la Chiesa si riforma con l'unzione, la gratuità dell'unzione, della grazia, con la forza della preghiera, con la gioia della missione, con la bellezza disarmante della povertà. Mettiamo Dio al primo posto. Spirito Santo, Spirito Paraclito, consola i nostri cuori. Facci missionari della Tua consolazione, Paraclito di misericordia per il mondo, Avvocato nostro, dolce suggeritore dell'anima. Rendeci testimoni dell'oggi di Dio, profetti di unità per la Chiesa e l'umanità, apostoli fondati sulla Tua grazia, che tutto crea e tutto rinnova. Amen. Grazie. 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 Lo Spirito Santo, attesso e invocato, oggi discende sulla Chiesa per rinnovare nel nostro tempo i prodigi della Pentecoste. Apriamoci alla sua azione dolce e potente. Come segno di unità e di pace. Rinnova per il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi le meraviglie della Pentecoste. Rendi gioioso e fecondo il loro servizio all'umanità. Rendi gioioso e fecondo il loro servizio all'umanità. Rendi gioioso e fecondo il loro servizio all'umanità. Soccorri coloro che soffrono e lottano per la giustizia. Tengano viva la speranza, dono dello Spirito, per credere che l'amore è più forte dell'odio. Benedici noi qui riuniti. La forza del tuo Spirito ci doni il coraggio di respingere ogni forma di egoismo e di compromesso con il male per camminare in santità di vita. Noi ti preghiamo Ascoltaci, Signore O Padre, fonte di ogni rinnovamento nell'amore, fa che in ogni lingua, popolo e cultura risuoni l'annuncio gioioso del Vangelo e il tuo Santo Spirito ci rigeneri nella Pasqua del tuo Figlio e gli vi regna nei secoli dei secoli. Amen Ascoltaci, Signore Ascoltaci, Signore Ascoltaci, Signore Ascoltaci, Signore Ascoltaci, Signore Alleluia 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 Preate, fratelli e sorelle, perché il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Impotente. Il Signore riceva dalle Tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del Suo nome, per il bene nostro e di tutta la Sua Santa Chiesa. Manda, oh Padre, lo Spirito Santo promesso dal Tuo Figlio, perché riveli pienamente ai nostri cuori il mistero di questo sacrificio e ci apre la conoscenza della verità tutt'intera. Per Cristo, nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. E veramente cosa buona e giusta è il nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo. A Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi hai portato a compimento il mistero pasquale su coloro che hai reso figli di adozione in Cristo, tu figli. Hai effuso lo Spirito Santo, che agli albori della Chiesa nascente ha rivelato a tutti i popoli il mistero nascosto nei secoli. E ha riunito i linguaggi della famiglia umana nella professione dell'unica fede. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità è svolta su tutta la terra. E con l'Assemblea degli Angeli e dei Santi, canta senza fine l'inno della tua gloria. Sanctus 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 Sanct Grazie a tutti. 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 Ti supplichiamo, Dio Onnipotente, fa che questa offerta per le mani del Tuo Angelo Santo sia portata sull'altare del cielo davanti alla Tua Maestra Divina. Perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo, sangue del Tuo Figlio, scenda alla pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, o Signore, dei Tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, o Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, Tuoi ministri, peccatori, ma fiduciosi nella Tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di avere parte alla comunità dei Tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro, Felicità, Pepetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i Tuoi santi, ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del Tuo perdono. Per Cristo, Signore nostro, Tuo Dio crei santifiche sempre, fai vivere benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a Te, Dio Padre Inipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni honore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen, 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 Amen piensa del Vangelo, possiamo dire. Vangelo, possiamo dire. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nella testa che si compie la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tui Apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa. E donna le unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi il re nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. 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 Ecco l'agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Beati invitati alla cena dei signori. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla Tua mensa. Ma di soltanto una parola e io sarò salvato. E con il tuo spirito. E con il tuo spirito. E con il tuo spirito. Advenientis, signiritus reis, come eras e nefes, alleluia! Advenientis, signiritus reis, come eras e nefes, alleluia, alleluia! E sorgi teus, et dissipantum vivit eus, et fugium trioderum teus, a faci tei eus, a faci teus, a faci teus, a faci teus, a faci teus, advenientis, signiritus reis, cum ierans te nefes, alleluia! Et repetis, un comnes, spiritus santo, e un comnes, nortre, 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 eus, un comnes, alleluia, alleluia! Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.